Tornano per il tredicesimo anno consecutivo le conversazioni napoleoniche, appuntamento culturale dell'agosto lucchese che si svolge nell'ambito del progetto Da Parigi a Lucca, il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa. Un progetto ideato da Roberta Martinelli con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e realizzato in collaborazione anche con il souvenir napoleonien. Appuntamento lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 agosto nel chiostro di San Micheletto, sempre alle 21 e 30 e sempre a ingresso libero, per tre incontri di approfondimento della vita dei napoleonidi e del loro tempo, quest'anno con la novità della presenza di due asperti di moda e costume che affiancheranno le relatrici Simonetta Giuliano e Pardini, Margarita Martinez e Velia Ginibartoli, con documenti di primo piano per la comprensione della storia e della comunicazione, ieri e oggi. Troveranno, diciamo, diversi argomenti e sempre con il cliché che ormai è varato da 13 anni. La prima passione si racconterà la storia, abbiamo intitolato La donna immobile per dare l'idea di una donna un po' particolare, della seconda moglie di Napoleone. È un personaggio veramente intrigante, sia per la sua vita pubblica ma soprattutto per quella privata. Poi ci sarà una relazione di Peter Hicks sulla passione che Napoleone aveva per gli storici antichi, sia greci che latini ed infine una cosa nuova, particolare, legata proprio al mondo della moda, del costume ma anche delle uniformi militari, una cosa molto particolare.